Sono le 6 in punto, buongiorno dalla TG5 e da Prima Pagina. Subito il maltempo perché due giorni di pioggia ininterrotta in Germania hanno provocato una catastrofe. Ci sarebbero oltre 50 vittime accertate e centinaia di dispersi. Pace fatta nel Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e l'ex Premier Conte che dovrebbe essere ricevuto nei prossimi giorni dal Presidente Draghi per fare il punto sulle riforme. L'obiettivo è chiudere quello della giustizia prima della stagione delle vacanze estive. La visita della cancelliera Merkel negli Stati Uniti, 23esima visita per la Merkel che si è chiusa con un buon esito. Si rafforzano la partnership fra Stati Uniti e Germania anche se restano delle divergenze. E ora il calcio, novità dal calcio a mercato, soprattutto in Casa Mila. Apriamo la rassegna stampa con il quotidiano economico il sole 24 ore, le 6.08, ci rivediamo tra poco. Buongiorno dalla Tg5 e da Prima Pagina, sono le 6.15 di venerdì 16 luglio. Subito il maltempo che ha colpito la Germania, strade come fiumi, case interamente allagate ma soprattutto vittime, decine di vittime con un bilancio che rischia di aggravarsi. Ci sono migliaia di dispersi ancora. La Germania, così come molti altri paesi al mondo, devono fare i contagi legati alla variante Delta che preoccupa anche l'Italia. All'inizio della prossima settimana ci sarà una cabina di regia sul tavolo, soprattutto il colore delle regioni, ma il Green Pass. E poi ci sono le misure adottate dalle regioni, prima fra tutte la Sicilia, per cercare di arginare i contagi da variante Delta. La crisi economica, gravata da quella sanitaria, ha acuito in alcuni casi la già difficile situazione di alcune aziende. Sul tavolo del Mise ci sono oltre 80 avvertenze aperte, ora il governo ha adottato una serie di provvedimenti urgenti. E ora diamo uno sguardo ai mercati. Tanti i temi sul tavolo nel bilaterale tra Biden e Merkel. Un incontro proficuo, con ogni probabilità l'ultimo della Merkel come cancelliera. Un agente di polizia è morto per le ferite riportate dopo una sparatoria avvenuta in Texas, in cui sono rimasti feriti anche altri tre agenti, uno ricoverato in gravi condizioni, rispondendo alla segnalazione di un possibile uomo armato nella piccola cittadina texana di Livelyland, nel sud degli Stati Uniti. La polizia è stata bersaglio di spari mentre l'uomo si barricava in casa. Ora la rassegna stampa che apriamo con un quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport della Germania. Noi ora ci fermiamo, sono le 6.23, le rubriche ci rivediamo alle 6.30. Sono le 6.30, buongiorno dalla TG5 e da Prima Pagina. Subito in apertura andiamo in Germania perché è davvero impressionante quanto è successo, quanto ha provocato il maltempo. Pallegamenti e straripamenti hanno causato decine di morti e centinaia di dispersi. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio. Ondata di maltempo che ha colpito anche l'Italia provocando danni soprattutto all'agricoltura e per oggi è prevista l'erta gialla a Milano. I dati sulla circolazione del virus nel nostro paese. Diciamo subito che non aumentano i posti letto occupati in ospedale, anche grazie alle vaccinazioni, aumentano però i contagi da variante Delta. A inizio della prossima settimana ci sarà la cabina di regia sul tavolo, soprattutto due argomenti, il colore delle regioni da una parte e il Green Pass dall'altra. Ma il governo lavora anche alle riforme. Presto il presidente Draghi potrebbe incontrare l'ex premier Giuseppe Conte dopo che la pace è scattata nel Movimento 5 Stelle. Ieri c'è stata l'ufficialità tra lui e Beppe Grillo. E ora diamo uno sguardo ai mercati alle 6.00. E ora andiamo negli Stati Uniti, poche ore fa si è concluso l'incontro tra il presidente Biden e la cancelliera Merkel. Sono le 6.37, ora spazio alle rubriche. Sono le 6.45 di venerdì 16 luglio. Buongiorno dalla TG5 e da Prima Pagina. Andiamo subito in Germania perché è davvero impressionante l'ondata di maltempo che ha provocato davvero una catastrofe. Ci sono morti dispersi ma il bilancio è ancora del tutto provvisorio. Quasi 2.500 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in risalita. Dunque non anche fortunatamente i posti letto. Questo grazie anche alle vaccinazioni. E un aumento che preoccupa all'inizio della prossima settimana. Ci sarà la cabina di regia nella quale si deciderà il da farsi. Si è tenuta presso la Basilica di San Gennaro a Napoli alla presenza del capo. Novità per Alitalia. Bruxelles ha dato il via libera al piano di salvataggio che però non piace ai sindacati che chiedono un incontro con il governo impegnato appena varato. Provvedimenti che riguardano anche le aziende in crisi. Uno sguardo ai mercati. Alle 6.52 noi ci fermiamo. Ci rivediamo puntuali alle 7. Sono le 7 in punto. Buongiorno dalla TG5 e da Prima Pagina. Subito in Germania per l'impressionante ondata di maltempo che ha colpito alcune aree del paese. Provocando quello che la stessa cancelliera Merkel ha definito una catastrofe. Ci sono dispersi ma ci sono soprattutto vittime. Un bilancio che rischia di aggravarsi. Il cordoglio unanime da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e parole di vicinanza anche da Papa Francesco. Maltempo che nelle ultime ore ha colpito anche il nord Italia. Ma cosa dobbiamo attenderci? Ce lo dice, ce lo racconta Andrea Giuliaci di Meteo.it. Buongiorno. Grazie ad Andrea Giuliaci. Ora parliamo della circolazione del virus nel nostro paese. Aumentano i contagi, per fortuna non le ospedalizzazioni. E il governo valuta altre misure. Si valuta soprattutto, e se ne discuterà a inizio della prossima settimana, dell'estensione del Green Pass. E ora lo sport, il calcio, novità in casa Milan. Sono le 7.08. Noi ci fermiamo, ci sono le rubriche. Ci rivediamo alle 7.15. È venerdì 16 luglio e sono le 7.15. Buongiorno dalla TG5 e da prima pagina. Subito la circolazione del virus nel nostro paese. Una delle misure che l'Italia potrebbe adottare, delle quali si discuterà a inizio della prossima settimana, riguarda l'estensione del Green Pass anche a bar, ristoranti e cinema. Preoccupano ora la variante indiana, ma gli esperti sono preoccupati anche per eventuali future mutazioni del virus. Anche la Germania fa i conti con la circolazione del virus, ma in queste ore, soprattutto con l'ondata di maltempo, che ha provocato una catastrofe. Maltempo che ha attraversato, l'avete sentito anche altri stati, c'è stato anche in Italia ed è previsto anche per le prossime ore. La politica ora pace fatta nel Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E ora la cronaca che ci porta a parlare di questo giro d'affari da quasi un milione di euro con prodotti che però erano falsi. Autentica invece è bellissima l'azienda agricola di quasi 2000 anni fa che sarà visitabile per la prima volta nel Parco archeologico di Pompei. La strage del clima, così titola sulla prima pagina. Ora ci fermiamo, le rubriche ci rivediamo alle 7.30. Sono le 7.30, buongiorno dalla TG5 e da prima pagina. Due giorni di maltempo in Germania hanno provocato una vera e propria catastrofe. Così l'ha definita la cancelliera Merkel che ha aggiunto che la reale portata della luvione la si conoscerà realmente fra qualche giorno. Intanto questo è il bilancio provvisorio. Maltempo che ha colpito anche l'Italia. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Andrea Giuliacci di Meteo.it, buongiorno. Grazie ad Andrea Giuliacci. Ora apriamo la pagina del virus dopo Malta. Anche a Dubai e in Grecia studenti italiani, la maggior parte dei quali minorenni, chiusi in hotel e bloccati in hotel perché risultati positivi sono venuti in contatto con persone positive al virus. Grazie alle vaccinazioni sono stabili i posti letto occupati negli ospedali, ma aumentano i contagi e il governo studia nuovi provvedimenti. Sul tavolo del governo anche le crisi aziendali. E poche ore fa si è concluso l'incontro negli Stati Uniti tra Angela Merkel e Joe Biden. Le ultime novità sul calcio arrivano dai movimenti nel mercato. Ci fermiamo alle rubriche e ci rivediamo alle 7.45. Sono le 7.45 in punto. Buongiorno, bentrovati a prima pagina. Subito la catastrofe provocata dal maltempo in Germania. La reale portata degli allagamenti, dell'alluvione, la si conoscerà soltanto fra qualche giorno, come ha sottolineato la stessa cancelliera tedesca Merkel. Ma intanto questo è il bilancio delle vittime appena aggiornato. La circolazione del virus nel nostro paese. Il governo valuta se ampliare il Green Pass ed estenderlo anche a bar, ristoranti e cinema. Intanto aumentano i contagi, fortunatamente non i posti letto occupati negli ospedali, anche grazie alla vaccinazione. Ma sul tavolo del governo anche le crisi aziendali. e poi ci sono novità che riguardano l'Italia. E il governo lavora anche alle riforme. Nei prossimi giorni il presidente Draghi potrebbe ricevere l'ex premier Conte. Andiamo negli Stati Uniti ora, dove poche ore fa si è concluso l'incontro tra Biden e Merkel. E ora lo sport, il calcio con le novità che arrivano dai movimenti nel mercato. Sono le 7.52. Prima pagina si ferma qui, torna puntuale come sempre domani alle 6. Ora la linea passa a Francesca Cenci per tutti gli aggiornamenti e le notizie con il TG5 delle 8. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata.